Le regole vagano per tutti, non può essere che una sagra duri 30 giorni consecutivi a scapito di ristoratori e baristi. Li hanno ribattezzati professionisti delle sagre, magari scollegati al territorio, pronti però a stabilirsi per un mese con panchine e tavolini in una località, danneggiando in quella che è stata definita concorrenza sleale gli esercizi pubblici del luogo. Nel nuovo disegno legge della Regione Veneto sul Commercio si pone un freno al fenomeno. Abbiamo ridotto i 30 giorni consecutivi a 15, perché ci sono situazioni dove effettivamente sono i professionisti delle sagre che non hanno nulla a che fare col territorio, con la ricaduta sul territorio o con le raccolte fondi per la parrocchia e per l'asilo, ma sono un'alternativa evidentemente non organizzata e non con le stesse caratteristiche che hanno albergatori, ristoratori e baristi. Più in generale l'obiettivo del disegno di legge è quello di una riforma che semplifichi e diminuisca la burocrazia per facilitare lo sviluppo del settore, favorendo il commercio al dettaglio e razionalizzando le grandi strutture di vendita. Credo sia giusto che il Comune possa identificare l'area dove insediare le medie strutture di vendita. E' questo perché c'è il rischio che queste medie strutture di vendita si insedino in zone non adeguate e poi con il passare del tempo diventino grandi parchi commerciali. Anche qua serve una razionalizzazione. A Palazzo Balbi è stato presentato anche un nuovo strumento di agevolazione bancaria per le aziende agricole in collaborazione con gli istituti bancari. Ad oggi sono state presentate all'Agenzia Veneta per i pagamenti circa 1.400 domande di aiuto a valere sugli interventi del complemento di sviluppo rurale per un totale di oltre 360 milioni di euro di spesa richiesta con uno stanziamento di 175 milioni di contributi pubblici.